Dal Corriere di Sciacca del Consueto, buongiorno, oggi è sabato 15 aprile. Il Procuratore della Repubblica di Agrigento, Salvatore Vella, ha concluso la sua requisitoria nell'udienza preliminare sulla maxinchiesta Waterloo, chiesti 35 rinvia giudizio e 15 non luogo a procedere. Ribadita la richiesta, oltre che per il Presidente di Girgenti Acque, Marco Campione, per l'ex prefetto di Agrigento Nicola Diomede, per l'ex Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, non luogo a procedere, per l'ex Presidente della provincia Eugenio Dorsi. L'inchiesta riguarda la presunta organizzazione delinquere di colletti bianchi, che sarebbe stata messa in piedi dallo stesso campione. Lutto a Sant'Aninf, morto ieri in ospedale, il sindaco Giuseppe Lombardino era da tempo malato e da alcuni giorni si trovava ricoverato all'ospedale di Castelvetrano per una broncopolmonite. Le sue condizioni però si sono aggravate e si è poi spento. Lombardino aveva 61 anni e nonostante la malattia aveva da poco annunciato l'intenzione di ricandidarsi alla guida della città. Ride vandalico, intimidazione, indagini in corso a Caltabellotta in seguito al danneggiamento di un'auto di proprietà di un funzionario comunale. La vettura, una jeep, era parcheggiata di fronte al municipio. Il proprietario ha trovato delle righe vistose sul cofano. Il dipendente ha presentato denuncia alla locale stazione dei Carabinieri. Carnevale di Sciacca a maggio. Allarme tra i costruttori dei carri allegorici dopo il sequestro da parte della polizia di un carrellone che un'associazione avrebbe dovuto utilizzare per trasportare le opere in carta pesta nel corso dell'edizione che si terrà negli ultimi due fine settimane di maggio. Il mezzo non era a norma e questo tipo di accertamenti potrebbero interessare tutte le altre associazioni. Oggi intanto è previsto in municipio un incontro delle autorità amministrative comunali con i rappresentanti della società Meridiana Aventi che organizzerà la manifestazione. Consegnate a Montevago i lavori di ristrutturazione degli alloggi di edilizia popolare. Il progetto ammonta complessivamente a 4 milioni e 610 mila euro. Si prevedono interventi da parte dell'impresa Progresso Gruppe di Favara per efficientamento delle facciate e ripristino degli impianti di raccolta delle acque meteoriche negli alloggi di via 15 gennaio e corso del popolo. Uno spaccato di vita quotidiana, la saltazione del dialetto come diversità di radici storiche, di culture, di esperienze umane che non deve in nessun modo essere dimenticata. C'è tutto questo in Quattraria di Sciacca, il nuovo libro di poesie di Lorenzo Raso che verrà presentato domani 16 aprile alle ore 11 a San Marco Restart 2023, la rassegna artistico-letteraria organizzata dal Comitato Provinciale Asia e dalla struttura turistica Bonovacanz. Calcio domani si chiude il campionato di eccellenza e la giornata che potrebbe decretare la vittoria del torneo e la promozione in D dell'Akragas. Gli agrigentini sono primi in classifica con un punto di vantaggio su Lenna e all'esseneto ospiteranno il re Suttana San Lorenzo che cerca invece punti salvezza. Lenna sarà di scena a Favara per lo Sciacca chiusura sul campo della Nissa. Domani alle ore 11.30 all'impianto sportivo Barbera Center di Santa Margherita Belice si terrà la seconda partita del girone di ritorno di Power Chair Hockey. I leoni sicani sfideranno i Thun del Roma, la squadra di casa riduce dal match del 2 aprile scorso, giornata in cui è riuscita a conquistare i tre punti contro l'Alba Longa di Albano Laziale con il risultato di 8 a 7. E' tutto per questa mattina, a più tardi per gli aggiornamenti restate su Corriere di Sciacca.it Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.